ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video questo nuovo video ha lo scopo di darvi un' informazione che corregge il mio video precedente avevo avuto io informazioni certe e dirette da venimobile che il cambio tariffa sarebbe stato il giorno 8 con il rilascio delle applicazioni android e apple per il giorno 7 in realtà non è stato così hanno anticipato il giorno 4 è stata rilasciata la per android per il cambio tariffa e giorno 5 oggi invece è stata rilasciata quella per apple scusatemi ma purtroppo hanno anticipato loro l'informazione era certa mi era direttamente arrivata da loro avevano indicato la data del 6 e del 7 quindi da oggi potete anzi da ieri potete già fare il cambio tariffa dai 30 giga ai 100 giga io vi ringrazio per l'attenzione vi chiedo di iscrivervi al canale quando non l'aveste fatto cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei nuovi video un abbraccio e un saluto da giuseppe